Il Natale è l'accoglienza del Figlio di Dio, di Gesù Cristo, che è venuto a cambiare la nostra vita. E c'è tanto da cambiare, a cominciare dalle ingiustizie, dalle infelicità che l'uomo si porta dentro e che spesso è lui stesso che si crea, a cominciare dalla mancanza di pace nelle persone, tra le famiglie e tra i popoli, che è davvero una delle emergenze che ci affligge di più. Ecco, io credo che se sappiamo davvero fare spazio nella nostra vita, nella nostra mente, nei nostri cuori, nei nostri atteggiamenti, nei nostri pensieri a questo Gesù Figlio di Dio, potremmo davvero inaugurare anche una stagione nuova, una storia nuova in noi e tra di noi. È il tradizionale messaggio di auguri del Vescovo di Prato alla città, un messaggio pieno di speranza in un momento più che mai difficile. Il pensiero va alle famiglie che ogni giorno bussano alle porte delle parrocchie per chiedere aiuto, un numero in costante aumento. La Chiesa Pratese risponde con l'iniziativa bolletta sospesa, un modo concreto per stare vicino a chi ha più bisogno. Aumenta il numero dei ricchi, dei super ricchi e aumenta anche esponenzialmente il numero dei super poveri o dei poveri. E l'auspicio è che in questo Natale nessuno possa sentirsi davvero messo al margine perché solo ad affrontare i propri problemi, ma potesse trovare qualcuno che gli si mette accanto e che gli dice guarda non sei solo, per quello che posso, ecco io ti aiuto volentieri. Questo vorrebbe essere non solo l'auspicio ma anche l'impegno della Chiesa Pratese. Natale sinonimo di solidarietà e di pace, la pace che manca. Il figlio di Dio viene l'annuncio degli angeli ai pastori che è il Dio della pace, il Signore della pace, ma questa pace ha bisogno di essere accolta, ha bisogno di essere coltivata, ha bisogno di essere coniugata con la vita quotidiana. Questo è un auspicio perché ne abbiamo veramente bisogno, il mondo ne ha bisogno, fuori di questo c'è solo una prospettiva di distruzione.